Ma si può andare avanti così? Cioè ma con la freccetta in giù mi ha fatto... Ma veramente? Ma è vergognoso? Ma uno cosa deve fare? Ma cosa deve fare uno? Ma è vergognoso? Cioè ma poi porca puttana per colpa di quell'imbecile che ha fatto andare il coso un'altra volta? Ma c'è ma porco dio! Ma che camperone! Ma che vuole te, vuole te! Ti guarda! No non sta al secondo me! Cioè ma porco dio! Ma è possibile che io debba perdere per i sti bug del cazzo? E poi... ... Grazie a tutti